Allora mister, la partita decisiva, si spera sia la partita decisiva, la partita da non sbagliare, per la verità anche le altre erano da non sbagliare, però questo veramente permetterebbe al Catanzaro di vivere gli ultimi 180 minuti in tutta tranquillità a questo punto. Sì, diciamo che l'obiettivo è questo, è quello di salvarsi prima, di andare poi a Fondi, a Pagani, dove sarebbero due scontri diretti. E' normale che questa partita presenta grandi difficoltà, perché il Siracusa è una squadra ben costruita, ben allenata, perché è una squadra molto organizzata, sia in possesso che non possesso. Non a caso, diciamo che per punti fatti è la quarta forza del campionato, quindi è sicuramente una partita difficile, però insomma noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare al nostro obiettivo e il nostro obiettivo in questo momento è quello di cercare di salvarci prima di quelle due partite. Arrivata a questa partita con qualche problemino, insomma tre squalificati, forse qualche indisponibile per infortunio e tra l'altro tra gli squalificati avete il portiere, insomma giocherete questa partita con un debuttante in porta, il che insomma è sempre un po' un rischio, comunque una cosa da evidenziare o no? Sì, no è vero, ci sono anche ulteriori difficoltà oltre a quelle che ho detto prima, oltre al valore dell'avversario che è una cosa oggettiva, ci sono anche difficoltà poi perché abbiamo cinque assenze, però io onestamente per mia forma mentale non mi piace mai guardare a chi manca, ma sicuramente metteremo in campo una squadra consapevole dell'importanza di questa partita. Poi devo essere onesto, non sono sereno, non sono tranquillo, ma è giusto così perché non dobbiamo essere sereni, non dobbiamo essere tranquilli perché questa squadra purtroppo ha dimostrato di avere troppi alti e bassi in questa stagione, dopo una buona prestazione ne è venuta un'altra non buona, quindi il fatto che il livello di allarme è molto alto è una cosa positiva per noi. Difficoltà oggettiva dell'avversario che se vogliamo può essere aggravato, aumentato dal fatto che in trasferte il Siracusa sarebbe seconda in classifica, ha fatto più punti fuori casa che in casa. Come si approccia una partita di questo genere con una squadra che si sa benissimo che può far male, ha pareggiato a Lecce due settimane fa ed è una delle poche che è riuscita a fare punti l'Albia del Mare? Sì, anche questo dato conferma quello che dicevo, in trasferta è la seconda forza del nostro campionato, però ripeto, sono tutti dati che noi sappiamo, però poi noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo provare in tutti i modi a cercare di vincere con grande attenzione, dobbiamo anche sfruttare il fattore campo, i nostri tifosi, perché i nostri tifosi in tutte le partite dove io ho disputato in casa ci hanno sempre dato una grande mano, a Cosenza sono stati incomiabili, quindi anche quello domani deve essere un fattore che ci deve spingere ad andare oltre quelli che possono essere i nostri limiti, sempre però con grande attenzione, è una partita che dobbiamo provare a vincere, ma sempre con grandissima attenzione, cioè cercando di poi non concedere a loro troppi spazi, perché poi nella partita solitamente ci sono tante partite, noi dobbiamo essere bravi a capire quando è il momento che c'è da soffrire, c'è da soffrire tutti insieme, ci dobbiamo ricompattare e poi però dobbiamo in tutti i modi provare anche a far male. Una cosa le volevo chiedere rispetto a Cosenza, il mediano messo più avanti sulla tre quarti o quasi la seconda punta come l'ha fatto Marin, come giudica questo esperimento, questa soluzione e se pensa che sia possibile, probabile rivederla pure domani? No, è stata sicuramente una soluzione che lì ha dato dei frutti positivi per il tipo di partita che dovevamo fare, è normale che giocando in casa dobbiamo provare a fare qualcosa in più, però è sempre una soluzione che insomma tengo in grossa considerazione, adesso vediamo la rifinitura e poi insomma farò le ultime valutazioni. Senta lei, ho già avuto modo di dirlo in precedenti occasioni, non si aspettava tutte queste difficoltà, sapeva naturalmente che c'erano delle difficoltà, altrimenti non sarebbe lei qua, però insomma non si aspettava che sarebbero così imponenti. Le chiedo qual è secondo lei il motivo di queste difficoltà, nel senso probabilmente ci sono questioni tecniche, tattiche, di tutte e di tutta natura naturalmente, di costruzione della squadra eccetera eccetera, ma le chiedo anche se non c'è magari una, come posso dire, una scarsa propensione agonistica dei calciatori, insomma il gruppo che magari non ha la dovuta personalità per affrontare anche perché no, una piazza come questa che comunque è una piazza impegnativa per una Serie C. Quando una squadra importante come il Catanzaro, costruita per fare un campionato diverso rispetto a quello che ha fatto, fa questo tipo di campionato, sicuramente le responsabilità sono da dividere in tanti, non solo a una persona, non solo ai calciatori, ci sono sicuramente, come abbiamo detto, responsabilità un po' di tutti, ci sono dei limiti, perché i numeri confermano questo, però da un punto di vista onestamente del carattere, insomma la squadra domenica a Cosenza in una partita difficile, sentita, ha dato una grandissima risposta, forse un limite può essere stato quello che dicevo prima, il fatto di non avere continuità, il fatto di fare una buona partita e subito dopo farne una non buona, forse il fatto di calare con l'attenzione, nel momento in cui devi necessariamente fare qualcosa, alzi il livello dell'attenzione, quando ti rilassi un po' l'attenzione cale e vengono fuori i limiti, per questo io dicevo che in questo momento io non sono tranquillo per la partita domani, ma non deve essere tranquillo nessuno proprio per questo motivo qui, perché purtroppo noi abbiamo dimostrato che cambiamo il nostro atteggiamento troppo facilmente da una prestazione a un'altra e quindi è meglio stare sempre un po' preoccupati, perché la preoccupazione ti fa star sveglio. Ultima cosa per quanto riguarda, in settimana abbiamo sentito Marco Antonini, ci è sembrato anche abbastanza sicuro dei suoi mezzi, almeno personalmente mi è sembrato abbastanza sicuro, certo è che per lui è una prova importante, volevo capire se lei lo sta preparando in qualche maniera particolare, se gli dirà magari qualcosa di particolare visto il suo debutto. No, 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 io non gli ho detto assolutamente niente di particolare, abbiamo fatto una settimana come hanno fatto tutte le altre, è un portiere che mi dà garanzie, è un ragazzo che si è sempre allenato al massimo e come ha detto giustamente lui si è allenato al massimo per farsi trovare pronto proprio per l'occasione che gli capitava e questa è un'occasione che gli è capitata ed è il modo giusto secondo me con cui un calciatore deve vivere questa professione.